Pizzone 2. L'attesa di sviluppi in un senso o nell'altro è duplice. Da un lato Enel entro agosto dovrà presentare all'amministro dell'ambiente il nuovo progetto della centrale idroelettrica. Parallenamente il Tar Lazio si pronuncerà sul ricorso di chi senza se e senza ma si oppone alla realizzazione dell'impianto che il condizionale d'obbligo utilizzerebbe le acque degli invasi del lago di Castel San Vincenzo e Montagna Spaccata. I comuni di Rocchetta a Volturno e sul versante Abruzzese, Barrea e Alfedena, tutti ricadenti nell'area PNALM, chiedono l'annullamento dell'ultimo provvedimento del Ministero con il quale si proroga la sospensione via, acronimo per valutazione di impatto ambientale. Lo stand-by dell'ITER ha consentito a Enel cestinato il primo megaprogetto contro cui c'era stata la ferma opposizione del coordinamento No-Pizzone 2 di ripartire da capo con una nuova idea, meno impattante, affidata ad una società svizzera. Anche la versione rivisitata, sommariamente esposta nel corso di un ciclo di incontri sul territorio tenutisi nei mesi scorsi, non è piaciuta agli ambientalisti né a quella parte della popolazione locale riunita nel coordinamento. Intanto abbiamo chiesto al sindaco di Pizzone, Vincenzo Di Cristofano, delle eventuali misure di mitigazione e compensazione da negoziare con Enel. Il tema è a dir poco prematuro, di fatto fin qui sulla carta di ufficiale non c'è nulla. Posso solo dire, prosegue il primo cittadino, che a Enel ho già chiesto di inserire già nel progetto la messa in sicurezza del costone di Monte Mattone, la catena rocciosa che abbraccia Pizzone. L'opera, il cui costo si aggira intorno ai 2 milioni di euro, ci consentirebbe di aprire al turismo il Parco dell'Orso con ricadute economiche in tutto il territorio. Anche su questo fronte c'è da scommetterci, le polemiche non mancheranno.